direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del nuovo super enalotto e la sua innovativa formula di gioco oggi giovedì 20 aprile il jackpot ha raggiunto la cifra di 34 milioni 306 mila 344 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 47 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute e in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 3 siamo al secondo numero con il nuovo super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 14 e il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 82 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 67 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 72 è il momento di incrociare le dita siamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 52 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 61 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine d'estrazione ed il numero jolly 3 14 82 67 72 52 numero jolly 61 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 ed ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti il numero superstar di questa sera è il numero 20 20 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 47 in ordine crescente 3 14 52 67 72 82 numero jolly 61 superstar 20 l'estrazione di oggi giovedì 20 aprile termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 34 milioni 300 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati abbiamo appena estratto i numeri vincenti del concorso numero 47 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del nuovo super in allotto assegna 355 mila 710 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 34 milioni 300 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 35 milioni 500 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 2 e vincono 81 mila 12 euro ciascuno i 4 sono 459 e vincono 403 euro ciascuno i 3 sono 19 mila 574 e vincono 26 euro ciascuno i 2 sono 296 mila 173 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 11 mila 970 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 2 e vincono 40 mila 372 euro ciascuno i 3 stella sono 102 e vincono 2641 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1734 due stella 10 euro vanno ai 12.263 uno stella 5 euro vanno ai 25.401 zero stella vi ringrazio per essere stati con noi il nuovo super in allotto vi dà appuntamento a sabato 22 aprile giocheremo per un jackpot di 35 milioni 500 mila euro arrivederci grazie